Emanuele Gallo, ma quale risposte attendete da parte delle istituzioni in merito al problema acqua? Noi stiamo cercando di fare delle assemblee cittadine, delle assemblee cittadine che coinvolgono naturalmente quasi tutti. Parlo io del lavoratore a tempo indeterminato, poi i pensionati, le casalinghe e anche i disoccupati, per parlare riguardo a tre argomenti importanti, l'acqua, i rifiuti e i servizi sociali. Noi partiremo proprio con delle assemblee cittadine, il 4 a Caltanissetta e a seguire anche Sommatino, poi faremo San Cataldo e tutti i comuni della provincia per cercare di parlare della questione dell'acqua. Guardate che noi come CISL e Adiconsum abbiamo fatto un ricorso al TAR, un ricorso al TAR perché abbiamo impugnato una delibera che ha approvato il commissario del lato idrico. E allora da una parte in quella delibera cosa c'è scritto? Che si andrà ad aumentare la tariffa dell'acqua a partire dal 2016 fino al 2019 per circa il 20%, per un totale io parlo che ci sono 5% ogni anno. E dall'altra parte, questa per quanto riguarda la quota variabile, mentre per quanto riguarda la quota fissa nella delibera è stato scritto che verrà fatto l'adeguamento della tariffa a partire dal gennaio del 2017, mentre la quota variabile dal gennaio del 2016 è l'altra a gennaio del 2017. Naturalmente la quota variabile potrebbe portare un incremento all'utente della tariffa, mentre la quota fissa potrebbe portare un risparmio di circa di 50 euro a utente. E quindi questo crea enormemente problemi e abbiamo voluto per forza impugnare questa delibera. E le istituzioni, considerato che voi state coinvolgendo le istituzioni comunali, cosa possono fare nel merito? Allora, le istituzioni, così come prevede la legge, è necessario che si adeguano così a quello che prevede la legge, cioè costituire le cosiddette assemblee territoriali idriche. Quindi le istituzioni possono comunque andare ad agire attraverso questa assemblea a calmeriare le tariffe. Quindi è importante la presenza delle istituzioni affinché si adeguano alla legge di riferimento che ha approvato la regione siciliana circa qualche mese fa. Lei parlava di incontri che si terranno sommatino con il Tannissetta, si terranno incontri in Caggela? Sì, noi stiamo parlando solo di incontri con la cittadinanza e noi abbiamo chiesto anche la presenza delle istituzioni a fianco all'organizzazione sindacale. Questo per quale motivo? Perché ci dobbiamo confrontare pubblicamente attraverso queste assemblee cittadini nei territori. E questo lo faremo, sia a partire da Caltanissetta, lo faremo anche a Gela, ma in tutti i comuni della provincia.